Quando sono insieme ai miei animali, mi sento semplicemente io perché mi fermo, mi prendo del tempo per stare con loro, che è anche tempo dedicato a me stessa. Sono molto legata al mondo animale in generale, perché penso sia, insieme ai bambini, la parte migliore del mondo. Adoro la loro purezza, il loro saper stare insieme con profondo rispetto. A fine giornata si sente la stanchezza, ma posso dire che nel momento in cui si fa del lavoro per gli animali, la soddisfazione di vederli star bene non ha prezzo.